Un mio amico che ora aspettiamo, abbiamo dato la nostra casa in Ucraina, perché io sto nella zona tranquilla di Rivne, che ci ha raccontato che lui è di Buccia, è una città di Kiev, che gli avevano dato pochissime ore per uscire ai civili. Dovevano percorrere una trentina di chilometri e dovevano farlo in tre ore con i bambini in braccio, altrimenti se non facevano in tempo li sparavano, ma in effetti raccontava delle storie allucinanti che davanti a lui sparavano le persone in intere famiglie. Questa è la drammatica testimonianza di Elena, una delle volontari ucraine che a Pescara, nella sede a piano terra della regione Abruzzo, si occupa di accogliere i beni e i generi di prima necessità che i pescaresi e gli abruzzesi portano. Elena si adopera assieme ad altre sue connazionali, ma anche italiani, per il proprio paese. Ricordatevi di noi, visto che dopo l'onda emotiva iniziale le donazioni sono in una fase di stallo, tanto è stata la generosità degli abruzzesi con pacchi e viveri nella sede pronti per essere distribuiti o spediti. Ti do l'opportunità di fare un appello, cosa bisogna portare qui? Innanzitutto i medicinali da banco per i bambini, quelle che ci mancano è alimentazione bimbi, magari il latte non in polvere, il latte liquido, per poter darlo subito ai bambini, magari se le persone non hanno l'acqua, la correnza, questo. E poi il cibo in scatola. La situazione in Ucraina continua ad essere drammatica, ci dice Elena. Quante vittime ci sono state, che tu sappia, tra i civili? Ma sappiamo che intorno a 1.500 vittime sono nella parte centrale, e poi di Mariupol si parla a 5.000 persone. Però non sappiamo, perché i dati ufficiali non ce l'ha nessuno, è impossibile fare questi conteggi. Anche i bambini? I bambini hanno già il numero superato oltre 200, è sempre il numero, non è ufficiale, sicuramente saranno di più, spero di no. Intanto il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, eravamo proprio all'inizio di questo tragico conflitto, sia la consigliera Marcozzi che il consigliere Sant'Angelo mi hanno stimolato a mettere a disposizione questi locali, che poi devo dire sono stati particolarmente utili per i primi soccorsi, prima che la macchina internazionale si attivasse. Penso che l'Abruzzo stia rispondendo con il consueto slancio di solidarietà di cui è tipico provviso il popolo abruzzese. In questo momento la nostra assistenza è soprattutto in natura logistica, cioè arrivano questi fratelli europei che vengono registrati, controllati e poi vengono smissati presso i nostri alberghi che stanno rispondendo in maniera massiccia alla call, all'avviso che è stato fatto alla protezione civile. È previsto l'arrivo di altri profughi? Credo di sì e spero di no, credo di sì perché non credo che la pace sia così imminente e spero che arrivi il prima possibile un cessato del fuoco che possa ripristinare condizioni di tranquillità. Come vede tra l'altro vogliono tornare in patria e questo dimostra l'attaccamento magnifico di questo popolo alla propria nazione. Signora, un'informazione, lei è venuta qui per portare cosa? Io portavo delle cose da neonato quindi volevo sapere se interessavano il minimo, diciamo, al di là della beneficenza in moneta. Con tutto il cuore mi auguro che finisca presto questa tragedia. Grazie. 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 Grazie.